Il premio al volo per renderci orgogliosi nel mondo con il bel canto Ma perché vincere Sanremo quando c'è Michele che te lo fa il leoncino? Te lo fa prescindere, dici, no? Allora, iniziamo con le foto di rito. Dovete fare i tre passanti, gentilmente. Facciamo prima la foto con Michele Affidato, l'orafo che anche lui da anni ci rende orgogliosi nel mondo, insomma, per un motivo diverso, perché non credo che Michele canti. No, benissimo, quindi i ruoli sono giusti. Buonasera a tutti, sì, vivo con gioia questa serata, con la gioia di vedere il Magna Grecia in festa per crescere sempre di più e poi la gioia, ecco, di premiare questi tre ragazzini, li conosco da quando hanno iniziato, una volta ragazzini perché dicevo, da quando hanno iniziato a tirare c'è una canzone, li ho seguiti artisticamente, li ho visti crescere, perché ecco, per me è un grande onore poter consegnare la colonna d'oro a questi grandi, all'amico Michele Torpedine, consegnare il simbolo del Magna Grecia più in festa, ma anche il simbolo della nostra cultura, della nostra galabina. Grazie, grazie. Grazie a Michele Affidato. Sono onorato che da 15 anni realizzo le colonne d'oro e questa sera in particolar modo premiare il volo e Michele Torpedine, il loro manager, le persone a cui sono molto legato, il volo lo inseguivo già dal programma Ti lascio una canzone, dove poi, ecco, hanno fatto questo grande successo formando questo trio, ho avuto il piacere di ricevere anche una loro visita presso il mio showroom diversi anni fa e questa sera per me è molto bello poterli premiare con la colonna d'oro e nello stesso tempo poter vivere questo meraviglioso festival che è diventato una delle rassegne cinematografiche più importanti d'Italia. Michele Affidato, il nostro grande orafo nel mio cuore, Michele. Grande, grande artigiano, grande artista calabrese e viva! Uomini come Michele Affidato rendono questa terra migliore.